La campagna dell'Africa orientale italiana fu combattuta durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo l'entrata in guerra dell'Italia, il 10 giugno del 1940. Tra le cospicue ma deboli forze italiane coloniali stanziate al comando del Duca Medeo d'Aosta in Africa orientale italiana e le truppe dell'Impero Britannico e del generale Archibald Weevil, con l'efficace collaborazione della resistenza etiope degli Arbeniuk, patrioti, che erano attivi in molte regioni fin dalla conquista italiana del 1936. I britannici, dopo un'iniziale fase difensiva, rinforzarono lo schieramento con l'afflusso di reparti anglo-indiani e sudafricani, modernamente armati e completamente motorizzati. Nella primavera del 1941, le forze britanniche, supportate dalla resistenza dei guerrieri etiopi, sferrarono una doppia offensiva in Eritrea e in Somalia, superarono rapidamente la difesa delle endebolite forze italiane e occuparono completamente l'Africa orientale italiana. Il duca Medeo si è arresa all'Ambalagi, mentre le ultime resistenze furono vinte nel novembre del 1941. La forza italiana presente in Africa orientale nel giugno del 1940 era molto consistente dal punto di vista numerico. I militari nazionali erano circa 91.000, raggruppati nelle divisioni Granatieri di Savoia e Cacciatori d'Africa, quest'ultima fortemente incompleta. Nel gruppo CCNN d'Africa, su 31 battaglioni, in tre compagnie cararmati e nelle forze di polizia dell'Africa italiana, della regia marina e della regia aeronautica. I quasi 200.000 indigeni, Ascari, Dubat, Zaptie e irregolari, si raggruppavano in 13 divisioni coloniali su 29 brigate, solo alcune complete, altre incomplete o ancora in via di formazione, 17 battaglioni autonomi, 8 squadroni di cavalleria, 22 gruppi bande regolari e irregolari, quest'ultime generalmente malarmate e di scarso valore bellico. Sulla carta gli italiani avevano una soverchiante superiorità numerica, ma questa situazione era parzialmente modificata da diversi seri handicap. Le forze britanniche aumentarono sensibilmente nelle varie fasi della campagna, mentre gli italiani non ricevettero alcun rinforzo. Insieme alle forze italiane combatté anche un piccolo numero di volontari tedeschi, organizzati nella campagna autocarrata tedesca. L'armamento delle forze italiane era, teoricamente, piuttosto nutrito dal momento che, oltre alle armi individuali, comprendenti 670.000 fucili, 5.300 fucili mitragliatori, 3.300 mitragliatrici, 57 mortai da 45 mm e 70 mortai da 81 mm, esse contavano anche su 811 cannoni, tutti risalenti al primo conflitto mondiale, alcuni dichiarati obsoleti nel 1910. Tuttavia, anche se dal punto di vista numerico e degli armamenti la situazione poteva apparire ottimale, la particolare situazione del terreno, le ben note carenze che affliggevano le armate italiane e la situazione politica e la strategia locale, rendeva la forza italiana, in Africa orientale, ben inferiore rispetto a quanto potesse apparire sulla carta. Le deficienze maggiori riguardavano la motorizzazione. Infatti, la disponibilità di mezzi di trasporto era fortemente limitata. All'atto dell'entrata in guerra vi erano in tutto 5.308 carri. E inoltre, la scarsità di parti di ricambio, critica era la disponibilità di gomme, corrispondenti appena al fabbisogno di un paio di mesi, e di carburanti. Le scorte di carburante erano valutate sufficienti a 6-7 mesi di esercizio, salvo naturalmente eventuali distruzioni da parte dell'ennemico. Unita alla carenza di strade idonee, rendevano ancora più limitata la possibilità di rapidi e veloci spostamenti di truppe motorizzate, come sarebbe stato invece necessario. Minori preoccupazioni destava il settore del vestiario e del vettovagliamento. Dal punto di vista del munizionamento, l'artiglieria poteva contare su un anno di scorte, ma per le armi portatili, peraltro le uniche disponibili in quantità più che adeguata, si poteva contare solamente su circa 6-7 mesi. Mancavano totalmente le armi contraeree o contro carro. Nel periodo precedente, allo scoppio della guerra, fu fatto pochissimo per rinforzare le armate presenti in colonia, e il Duca d'Aosta fu costretto, in pratica, ad affrontare le truppe britanniche con quello che aveva già sul posto, nell'impossibilità di ricevere i rifornimenti. A questi aspetti si sommava poi la particolare situazione politica, militare e strategica dei territori dell'impero. In primo luogo, questi erano di fatti isolati dalla madrepatria, dal momento che gli unici passaggi attraverso i quali i rifornimenti potevano essere fatti uscire dal Mediterraneo, erano in mano britannica, in canale di Suez e Cibilterra. In secondo luogo, la resistenza abissina, iniziata dai cosiddetti Arbegnuk, patrioti fin dalla caduta di Abissabeba nel 1936, nonostante la dura repressione attuata dall'occupante, per tutti gli anni del dominio italiano. Era in grado di ostacolare in modo rilevante i movimenti di truppe, i trasporti di rifornimento all'interno del paese, e poteva essere impiegata dai britannici per indebolire all'interno l'autorità italiana. L'alto comando britannico iniziò subito a pianificare ed organizzare la collaborazione militare con gli Arbegnuk, inviando sul posto due ufficiali esperti di guerra coloniale, il generale Daniel Arthur Sandford e il tenente colonnello Ord Wingate. Il rifornimento dei presidi italiani era inoltre reso ulteriormente difficoltoso dall'esistenza di alcuni grandi depositi solamente in prossimità dei principali porti, Massawa in Eritrea e Mogadiscio in Somalia, oltre che a Bissabeba, con conseguenze facilmente immaginabili sull'effettiva possibilità di portare i rifornimenti alle truppe dislocate in prossimità dei confini. Nel punto di vista amministrativo, l'Africa orientale italiana era suddivisa in sei governatorati sotto il comando del vicere, che rappresentava l'imperatore Vittorio Emanuele III. Se il governatore era un civile, aveva le sue dipendenze un comandante militare. Si trattava di un'impostazione inadatta a sostenere un conflitto esterno, poiché dava prevalenza agli organi civili a danno delle autorità militari. Il territorio era diviso in sei governi. Fino al 1938 esistette il governatorato di Abissabeba, il cui territorio venne integrato nel nuovo governatorato di Shoah dotato di un'amministrazione municipale. I governi erano retti da un governatore, coadivato da un consiglio di governo, di cui facevano parte le maggiori autorità del governo stesso. I governi della Mara, dei Galla e Sidamara, dell'Arar e dello Shoah costituivano l'impero italiano d'Etiopia, che era circa la metà dell'Etiopia indipendente fino al 1936. Inoltre, vi erano i governi di Somalia e dell'Eritrea. Secondo l'ordinamento militare dell'Aoi del 15 novembre del 1937, stabiliva una forza di 21.000 nazionali e 43.000 coloniali, organizzati in uno stato maggiore del governo generale, ad Abissabeba, e sei comandi truppe, uno per ogni governo. La posizione dell'Africa orientale italiana rendeva la colonia di fatto isolata in caso di guerra contro l'impero britannico. Il problema venne seriamente affrontato da Mussolini a partire dal febbraio del 1937. In una lettera al vicerè Rodolfo Graziani affermò che le forze terrestri avrebbero dovuto essere portate a 100.000 soldati complessivi, metà dei quali italiani, a partire dal 1 luglio, e che da settembre bisognava iniziare ad arruolare i nativi. L'obiettivo era di avere 300.000 uomini per il 40-41, ovvero il periodo per cui era previsto il completamento del riarmo. Nella stessa lettera, il duce chiarì che bisognava perseguire l'autoarchia dal punto di vista militare, sia in tempo di pace che in tempo di guerra. Disse, tenere sempre presente che in caso di guerra la madrepatria non chiederà nulla all'impero, ma non potrà dare nulla. Già allora la situazione sul campo era ben diversa, in quanto la guerriglia etiope imponeva la presenza di oltre 250.000 soldati. Il problema fu che il ministro della guerra accolse solo le richieste relative alla difesa interna e rimandò tutte le analisi relativa alla mobilitazione in caso di guerra. La questione venne riproposta dal duca d'Aosta nel maggio-settembre del 39, quando furono quantificate le necessità dal punto di vista economico. In particolare, per avere una completa autonomia militare dell'impero, erano necessari 4.830.000.000 di lire. Tuttavia, il progetto non era economicamente realizzabile e fu ridimensionato ad un solo anno di guerra. La cifra prevista fu di 1.450.000.000 di lire, ma anche questa fu considerata troppo alta. Il ministero delle finanze concesse solo 900 milioni. Il problema fu che i fondi non erano ancora utilizzabili. Solo dopo ripetute pressioni da parte dei generali, Pietro Gazzera e Guglielmo Nasi in particolare, ed un viaggio a Roma del vicerai in persona, il 18 aprile del 40, i fondi vennero materialmente accordati. Tuttavia, a causa dello scoppio della guerra, pochissimo materiale giunse in Africa orientale. Le truppe italiane, forti di 291.176 uomini, 9.203 nazionali e 199.973 ascari, erano in netta superiorità numerica. Infatti, i britannici, all'inizio dell'ostilità, potevano contare su 20.000 uomini, cifra che comprendeva anche le truppe dei Dominions, del Commonwealth e delle colonie. Tre battaglioni regolari britannici, nei quasi 30.000 chilometri del confine sudanese. Due brigate dell'Africa orientale in Kenya, 8.500 uomini, in parte sudafricani, in parte coloni, due battaglioni fucilieri e cinque compagnie di truppe camellate in Somalia britannica e due battaglioni indiani ad Aden. Il 10 giugno del 40, l'Italia dichiarò guerra a Francia e Regno Unito. Nello stesso giorno della dichiarazione di guerra, gli inglesi bombardarono la città di Asmara. L'11 giugno, l'Italia fa bombardare dalla sua aviazione Port Sudan ed Eden. La mattina del 13 giugno, tre caproni italiani bombardarono la base aerea del forte di Wajir, in Kenya. I velivoli britannici erano ancora in fase di riscaldamento e si stavano preparando al decollo. I caproni bombardarono il forte, il campo di atterraggio e gli alloggini nelle vicinanze. All'inizio del conflitto, il duca Medeo Daosta aveva concepito un piano molto ambizioso, ma difficilmente realizzabile. aprire una direttissima attraverso il Sudan e l'Egitto, 2500 km senza strade, seguendo il corso del Nilo, per poter raggiungere i porti di approvvigionamento sul Mediterraneo. Ma da Roma giunse l'ordine di mantenere un contegno strettamente difensivo. Il duca, interpretando l'ordine in chiave di difesa attiva, attaccò su tutti i fronti, cogliendo ovunque gli inglesi di sorpresa. Nella prima metà di luglio, si ebbero attacchi locali sia in Sudan, nelle zone di Cassala e lungo i corsi del Nilo Azzurro e del Nilo Bianco, sia nel Kenya, nel triangolo che si insinua tra la parte meridionale della Somalia e l'Etiopia. Al confine con il Sudan, il 3 luglio del 40 furono gli inglesi a prendere l'iniziativa, attaccando la cittadina etiopica di Metemma, ma venendone respinti. Ma già il 4 luglio del 40, il contrattacco italiano portò alla conquista di Cassala, a 20 km della frontiera con l'Eritrea, difesa della Sudan Defense Force. Gli italiani, inoltre, presero il piccolo forte britannico di Galabat, appena oltre il confine da Metemma, circa 200 miglia a sud di Cassala. Vennero conquistati anche i villaggi di Gezzan, Kurmuk e Dumbode, sul Nilo Azzurro. Dopo i successi nel Sudan, le truppe italiane passarono l'offensiva sulla frontiera del Kenya, per eliminare il pericoloso saliente di Dolo. Nella zona, la difesa britannica fu particolarmente accanita. In Kenya, gli italiani presero Fort Harrington a Moyal, e conquistarono Moyal e il saliente di Mendera, spengendosi verso l'interno per oltre 100 km. Alla fine di luglio, le forze italiane raggiunsero Debelle e Buna. Quest'ultima località, a un centinaio di chilometri dal confine, segnò la punta massima della penetrazione italiana nel Kenya. Il 3 agosto, le truppe italiane, comandate dal generale Guglielmo Nasi, penetrarono nella Somalia Britannica, sconfiggendo gli inglesi e le tribù locali, e occupando Berbera già il 19 agosto. Il tempo lavorava, tuttavia, a favore degli inglesi. Finita l'illusione di una guerra lampo, rapidissima e vittoriosa, e dopo una parvenza di successo iniziale, l'Italia subì il contrattacco alleato su più fronti, dell'allora Africa orientale italiana. I britannici poterono infatti contare sui rinforzi e rifornimenti che giunsero dal loro impero policentrico. Non solo la madrepatria, ma anche dall'India, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dal Sudafrica. Nel novembre del 40, i britannici assaggiarono le difese italiane avanzate di Galabat e Metemma, con un attacco che si risolse io nulla di fatto. Gli italiani scomberarono Galabat, lasciando sul terreno 175 morti, ma i britannici, bombardati da terra e dal cielo, furono a loro volta costretti a lasciare il forte. Nel gennaio del 41, le forze italiane erano ancora in superiorità numerica, nonostante l'AOI fosse isolata dalla madrepatria. Anzi, erano cresciute numericamente a ben 340.000 uomini, grazie al reclutamento di cittadini italiani ed etiopici a seguito dello scoppio della guerra. Le forze britanniche, invece, poterono contare su oltre 250.000 uomini, senza contare le forze della guerriglia etiopica. Sul fronte nord, le pressioni britanniche indussero gli italiani ad evacuare la città di Cassala, conquistata pochi mesi prima, e a ripiegare in Eritrea sulle posizioni fortificate prima di Agordat e poi di Keren. Lo scontro decisivo con i britannici si ebbe nella battaglia di Keren, dove le truppe italiane riuscirono a tenere le posizioni dal 3 febbraio al 27 marzo, ma furono alla fine costretti a cedere. Il generale Alan Gordon Cunningham aveva assunto il comando in Kenya nel novembre del 40, e nei mesi seguenti aveva raggruppato le sue forze dietro il fiume Etana. Con l'afflusso di importanti rinforzi e di grandi quantità di mezzi e materiali, il comandante britannico poteva costituire una forza d'urto molto mobile, con cui passare all'offensiva nello scacchiere meridionale. Il corpo di spedizione era formato inizialmente da due divisioni, la undicesima e la dodicesima divisione africana, con 20.000 soldati tra sudafricani, britannici, nigeriani, rodesiani e neri della Costa d'Oro. Queste truppe disponevano di 300 moderni pezzi di artiglieria, e soprattutto di oltre 10.000 automezzi, che permettevano una completa motorizzazione. Erano disponibili alcune squadrille aeree modernamente equipaggiate dell'aviazione sudafricana. Il comando italiano del Duca d'Aosta, coadivato dal generale Trezzani, decise di affrontare la temuta offensiva nemica, organizzando un debole schieramento a cordone, lungo quasi 600 chilometri del corso del fiume Giuba, che, essendo i molti tratti in secca, non avrebbe potuto costituire un reale ostacolo per le moderne truppe motorizzate. Il generale De Simone era responsabile superiore del settore, e disponeva di circa 35.000 soldati, di cui 4.200 italiani, organizzati nella 101esima divisione sommala, schierata a nord, e nella 102esima divisione sommala, posizionata a sud. In riserva erano disponibili altri due piccoli reparti indigeni. Si trattava di forze numerose, ma poco addestrate, scassamente equipaggiate, con artillerie antiquate, pochi mezzi, e solo una decina di vecchi aerei. L'offensiva del generale Cunningham ebbe inizio il 21 gennaio del 41, e raggiunse subito importanti successi. Il confine Somalo venne superato in 7 punti, e dentro il 10 febbraio tutti gli avamposti italiani furono conquistati. La situazione apparve subito così difficile che il duca d'Aosta, arrivato personalmente a Mogadiscio, dovette accogliere la richiesta del generale De Simone di ripiegare dietro il Giuba. Chisimaio venne abbandonata, frettolosamente, ed il 14 febbraio i britannici entrarono senza combattere nel porto. Il giorno seguente il generale Cunningham sferò subito l'attacco alla linea del fiume tra Jelib e Jumbo. I reparti somali si sbandarono, e le piccole riserve furono sprecate prematuramente dal generale De Simone. Tra il 17 e il 20 febbraio, la 11 e la 12 divisione africana superarono il Giuba. Le difese italiane, attaccate a Jelib sui fianchi e alle spalle, si stavano desigregando. Il 20 febbraio 41, il generale De Simone ordinò la ritirata generale, che si trasformò rapidamente in rotta. Le perdite ammontarono a 30.000 soldati, tra morti, dispersi e prigionieri. Dopo la caduta di Jelib il 22 febbraio, i britannici iniziarono quindi un rapido inseguimento in due direzioni. I comandanti italiani non furono in grado di fronteggiare la situazione e le forze schierate sulla linea del Giuba furono facilmente disperse. Mentre la 12esima divisione africana raggiungeva Dolo il 5 marzo, i reparti dell'11esima divisione africana occuparono fin dal 25 febbraio Mogadiscio, dove non incontrarono alcuna resistenza. Il podestà Salvatore Giuliana si arrese e consegnò la città già dichiarata città aperta. Il generale Cunningham decise di continuare subito l'offensiva sfruttando gli evidenti segni di cedimento del nemico. Il generale britannico ritene possibile una marcia direttamente su Abissabeba attraverso L'Ogaden e fin dal 1 marzo del 41 una colonna motorizzata di soldati africani al comando del generale Smallwood partì da Mogadiscio e iniziò ad avanzare in direzione di Arar. Le truppe imperiali non trovarono praticamente alcuna resistenza. L'avanzata proseguì con tappe di quasi 100 km al giorno e in 10 giorni fu raggiunta a Dagabur ad oltre 700 km da Mogadiscio. Contemporaneamente gli italiani dal 14 marzo evacuarono la Somalia britannica. I reparti britannici del generale Raid sbarcarono e liberarono rapidamente territorio. Alcuni reparti coloniali italiani si disgregarono durante la ritirata. A protezione di Arar il generale De Simone aveva organizzato una posizione difensiva con truppe coloniali e nazionali ma i fenomeni di collasso e le defezioni tra i reparti indigeni resero ben presto impossibile una prolungata resistenza. Il 18 marzo 1941 il duca d'Aosta prese la decisione di fronte all'evidente disgregazione dei reparti coloniali di ordinare al generale De Simone di abbandonare anche Arar e ripiegare ancora fino alla linea del fiume. dove organizzare un'ultima resistenza. La ritirata delle truppe del generale De Simone venne effettuata nel disordine e nella disorganizzazione sotto gli attacchi della popolazione ostile. Dopo alcuni tentativi di ralentare i britannici il 27 marzo fu abbandonata Arar e tra il 28 e il 29 marzo i reparti superstiti arrivarono nella totale confusione alla linea del fiume Awash che era già presidiata da truppe inviate dal vicere. Intanto riconquistata la Somalia dai britannici nel marzo del 41 le truppe italiane furono respinte verso il centro dell'Etiopia sino a giungere alla resa per totale mancanza di munizioni con l'onore delle armi di Amedeo Ducadaosta vicere d'Etiopia sulle alture dell'Ambalagi Il 6 aprile Ailes e Lassie entrò ad Ebra Macross e venne informato che le avanguardie di Alan Gordon Cunningham erano giunte alle porte della capitale dell'impero Lo stesso giorno infatti Renzo Mambrini maggiore generale della polizia dell'Africa italiana cui erano stati conferiti tutti i poteri civici politici e militari del governatore dell'Africa orientale italiana aveva comunicato la resa di Abissaveba al generale Wetherall comandante della 11esima divisione africana A Combolcià pochi chilometri a sud di Dessier si trovavano le posizioni difensive italiane Il raggruppamento di brigata sudafricana del generale Dampienar impegnò l'artiglieria italiana con i suoi cannoni mentre l'affanteria raggiungeva le alture sui 1800 metri I sudafricani impiegarono circa tre giorni per raggiungere gli obiettivi e dopo che un gruppo di arbegnuc etiopici del famoso capo Abebe Aregai si era unito a loro presero l'assalto le posizioni italiane 22 aprile I sudafricani ebbero nove morti e trenta feriti e fecero 8.000 prigionieri Ad Abisabeba dove vivevano ben 40.000 civili italiani i britannici affidarono l'amministrazione pubblica ai reparti della PAI Polizia dell'Africa Italiana che spinti dal terrore e della rabbia provocarono incidenti e agitazioni spararono sui prigionieri etiopici non ancora liberati uccidendone 64 mentre un gruppo di ausiliari reclutati tra i civili uccise altri sette etiopi durante una rissa a questo punto gli inglesi furono costretti a disarmare i soldati italiani ed affidare l'ordine pubblico alla pena ricostituita Polizia Etiope la vittoria finale dell'Etiopia e la sua liberazione dipesero molto anche dall'opposizione continua dell'Etiopi alla dominazione italiana con una guerra e guerriglia che effettivamente non si fermò per 5 anni fino alla totale liberazione il 5 maggio del 41 il Negus Aile Selassie entrò ad Abissabeba su un'alfa romeo scoperta preceduto dal colonnello Wingate su un cavallo bianco il Negus Negesti appena rientrato ad Abissabeba esortò tutti gli etiopi a non vendicarsi sugli italiani e a non ripagare le loro atrocità che avevano commesso per 5 anni dicendo non ripagate il male che vi hanno fatto non macchiatevi le mani con atti di crudeltà anche dopo la conquista alleata di Abissabeba e l'episodio dell'Ambalagi resistette ancora per mesi interi la guarnigione italiana di Gondar forte di circa 40.000 uomini e comandata dal generale Gugliel Munasi il generale amministrò egregiamente il suo vamposto ridusse le azioni organizzò un mercato indigeno una sezione recuperi per sfruttare ogni materiale una sezione pesca sulla Gotana così fino a ottobre la reazione dei soldati italiani fu buona 300 grammi di pane 400 di carne 200 di pesce al giorno e verdure in abbondanza ma ormai anche per Nasi si avvicinava la fine prima la caduta del presidio di Walker Feet e del presidio di Passo quel che Ber durante una serie di scontri durati da agosto a novembre poi il 27 novembre si scatenò la battaglia di Gondar e poco poterono i soldati italiani contro i carri armati britannici le forze di Nasi dopo essersi comportate egregiamente si arresero e pagarono con 4.000 morti 3.700 ascari 300 italiani e la sconfitta totale il generale Nasi e le sue ultime truppe ottenono gli onori militari dagli inglesi alcuni gruppi continuarono la resistenza sotto forma di guerriglia partigiana fronte di resistenza e figli d'Italia la breggia marina si era limitata a lasciare a Massawa otto sommergibili e poco naviglio leggero per poter concentrare l'attacco sul grosso traffico inglese verso il canale di Suez Massawa cadde il 7 aprile del 41 e l'11 aprile il presidente Roosevelt dichiarò il Mar Rosso navigabile per le navi statunitensi i 590 convogli britannici che attraversarono il Mar Rosso da giugno del 40 a maggio del 41 lamentarono solo un affondamento nel solo mese di giugno ben 4 sommergibili diventero inutilizzabili a causa delle salazioni di cloruro delimetile nell'impianto di condizionamento dell'aria nelle temperature del Mar Rosso gli altri il Guglielmotti il Galileo Ferris il Perla e l'Archimede riuscirono a tornare in patria dopo una rocambolesca circondavigazione dell'Africa arrivati al capo di Buona Speranza si diressero a nord lungo la costa occidentale dell'Africa e raggiunsero il porto di Bordeaux in Francia il 29 marzo il Perla venne rifornito di carburante dall'incrociatore ausiliario tedesco Atlantis nell'Oceano Indiano gli altri tre sottomarini vendero invece riforniti di carburante dalla petroliera tedesca Nordmark nell'Atlantico Meridionale tra il 16 e il 17 aprile tutti e quattro i sommergibili italiani raggiunsero Bordeaux tra il 7 e il 20 maggio nel corso della seconda guerra mondiale Mussolini ed altri suoi gerarchi progettarono un ingrandimento dell'impero italiano qualora se fosse fatto una conferenza di pace dopo la vittoria dell'asse questo progetto era basato nel congiungimento delle due sezioni dell'impero italiano nel 1939 la Libia e l'Africa orientale italiana tramite la conquista dell'Egitto e del Sudan adesso si sarebbe aggiunta la Somalia inglese effettivamente occupata dalle truppe italiane Cibuti e la parte orientale del Kenya britannico il progetto prevedeva un notevole insediamento coloniale di italiani oltre un milione da trasferire principalmente in Etiopia ed Eritrea e circa mezzo milione in Libia e il controllo del canale di Suez grazie mille Grazie.